Cari sorelle, cari fratelli, in questa domenica, in questi giorni cominciamo a respirare l'aria del Santo Natale, un respiro che viene anche dal passo evangelico odierno. L'evangelista Giovanni annuncia che dalla pienezza di Gesù venuto tra di noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. È una parola che spesso sentiamo nelle celebrazioni, nella predicazione, nelle catechesi, tanto che è una parola che è entrata anche nel linguaggio comune. È una di quelle parole alla quale non ci dovremmo abituare troppo facilmente, o meglio, della quale non possiamo mai smettere di cercarne la pregnanza, la forza. Spesso viene presentata questa parola grazia come sinonimo di dono, ma di quale dono si tratta? Potremmo dire forse un po' impropriamente che la grazia è il lavoro di Dio per noi, cioè Dio che grazia su grazia è costantemente l'opera per noi. Detto così, grazia su grazia esprime continuità, un paziente instancabile, il lavoro per noi fino a mandare il suo figlio. L'opera è proprio quella, qual è questa opera, qual è questo lavoro? È quella di proporci la loro amicizia, del padre, del figlio e dello spirito. È il lavoro a favore della comunione. È un operare per noi, ma anche per lui, o meglio per loro. È un noi comprensivo appunto del padre, il figlio e dello spirito e di ogni uomo e donna della terra e della storia. Infatti il Natale è un segno, un annuncio non solo per i cristiani, ma per tutti. E noi dobbiamo anche essere contenti che in alcune parti del mondo almeno sia quasi una festa universale, anche se fraintesa, anche se ridotta, dimentica della sua profondità. E sta a noi sentire profondamente la pregnanza di questa grazia e annunciarla a tutti. Sentire che il Signore è venuto e sta venendo e si occupa costantemente di ciascuno e ciascuno di noi, affannati nelle nostre preoccupazioni che spesso, come dicevamo nelle domeniche scorse, sfociano in un'osanna che tante volte ha il valore di un appello quasi disperato. E per tutto l'avvento, le letture ci hanno infatti presentato un Signore che non viene come i re e gli imperatori di questo mondo. In punta di piedi, con tenacia, continua a bussare costantemente, insistentemente alla porta del nostro cuore perché finalmente scopriamo di non essere soli, che questa osanna a una risposta, anche se diversa dalle nostre attese. E quindi anche noi con la stessa delicatezza e pazienza siamo testimoni dei continui regali di Natale, doni di grazia, grazia su grazia, che in questi giorni ancora riempiranno il nostro cuore di gioia. La parola grazia in greco è caris, siano questi giorni caris, una carezza per tutti noi.